Come aiutare i nostri figli contro il bullismo? Contro il bullismo? Il bullismo è ormai una... Oggi si chiama bullismo, in realtà l'abbiamo vissuto un po' tutti da piccoli Siamo stati un po' tutti bullizzati, c'era sempre il bullo di turno che doveva romperti le scatole Però, sinceramente, quando c'eravamo noi, sì, ok, c'erano, ma non si faceva tutta sta cacciara E' anche vero che allora i genitori trattavano i figli in un'altra maniera E gli insegnanti avevano un'autority diversa Oggi sono i bambini che hanno l'autorità Oggi gli insegnanti hanno paura di quello che dicono che fanno i bambini perché se no si beccano le denunce Non era così 40 anni fa E sinceramente, probabilmente era molto meglio 40 anni fa Perché oggi stiamo vivendo una società, vediamo di che tipo di persone E quindi, per combattere il bullismo, ammesso che debba essere combattuto Dovremmo ritornare a una mentalità diversa Dovremmo cambiare completamente la mentalità Dovremmo dare un'autorità ai genitori che non ce l'hanno più Il genitore dovrebbe essere autoritario e autorevole E allo stesso tempo dovrebbe passare l'autorità e l'autorevolezza agli insegnanti Che a loro volta se la devono guadagnare l'autorità e l'autorevolezza Perché l'autorità e l'autorevolezza sono due cose diverse L'autorità me la prendo a prescindere Io sono tuo padre e devi fare questo L'autorevolezza è un'altra cosa E la leadership Quindi abbiamo dei genitori che non vedono la di togliersi dalle palle i figli E magari gli mettono un iPad in mano da quando avevano tre anni E di conseguenza l'autorità se la scordano In più fanno fare i figli quello che vogliono Ormai i figli nascono bulli Io ho avuto esperienza di figli di amici Che più facevano i bulli da piccoli Più la mamma gli diceva bravo E' ovvio che se continui a premiarli Questi ti diventano dei bulli da grandi E purtroppo finché non sei piccolo Il problema è che vivi in una società in cui Se un bambino viene da te e ti dà un calcio Ti dà un pugno e ti butta la sabbia negli occhi Tu non lo puoi menare Non puoi menargli Né tanto meno Soprattutto quando la madre gli dice bravo Quindi poi cosa fai? Vai a dirlo alla madre Guardi che suo figlio o lo affogo Io o lo affoghi tu E invece la mamma Bravo continua C'è una Forse voi non lo sapete Ma Se andate nel mondo Alcuni hotel quando sentono che siete italiani E siete in coppia Vi chiedono se avete figli di quanti anni Perché potrebbero non accettare la vostra prenotazione Sappiate che nel mondo Ci sono hotel che non accettano i cani e i bambini italiani Chiedetevi perché Non è razzismo È protezione del loro hotel Perché un bambino italiano spesso e volentieri Visto che non è controllato E soprattutto gli fanno fare quello che vogliono Fa più danni nell'hotel Di quello che è lo stesso costo della stanza stessa Voi riconoscete i bambini italiani ovunque Se c'è uno che fa casino sono loro Ma anche i grandi italiani Se voi andate in giro per il mondo E sentite qualcuno che comincia a strombazzare con macchine e motorini Sono italiani sicuro Cioè se dentro un aereo c'è qualcuno che alza una voce E si deve far sentire da tutto l'aereo È italiano sicuro Quindi facciamoci due domande Grazie a tutti